ragazzi eccoci qua andiamo ad assaggiare la tartare di tonno mediterranea non so se qualcuno l'abbiamo è fatta ci ho pensato io con pomodoro di sorrento abbiamo cipolla rossa di tropea basilico fresco e ovviamente tonno abbattuto assaggiamo vediamo in diretta con voi mamma mia tutto il sapore del mediterraneo in bocca mamma mia tutto il sapore del mamma mia tutto il sapore del mamma mia tutto il Grazie a tutti 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 Grazie a tutti